Colombo Filippetti è marchio storico del mondo della macchina utensile, siamo con Stefano Colombo che è direttore generale dell'azienda. A Stefano Colombo iniziamo a chiedere come sta andando il mercato. Noi come produttori di sistemi di cambio utensile e di meccanismi a camme siamo fornitori dai grandi costruttori di macchine utensile in Italia e anche in Europa e stiamo vedendo in questi ultimi anni un ritorno anche importante verso un prodotto di qualità elevata, questo non può che darci soddisfazione e farci contenti. Colombo Filippetti è un'azienda con 50 anni di storia ma con un management assolutamente giovane, siete sostanzialmente tutti under 40. Il nostro direttore di produzione, le nostre persone dell'ufficio tecnico che sono quelle che fanno la differenza e la qualità sono tutte molto giovani, io stesso come direttore generale mi sento molto giovane e chiaramente sfruttiamo l'esuberanza anche di un management giovane nella ricerca e nel tentativo di seguire il mercato e i nostri clienti nella concezione che sia il fornitore a dover seguire il cliente nelle sue esigenze specifiche, nelle sue applicazioni particolari e quindi la nostra squadra cerca di rivolgersi ai clienti in questo modo. Essere under 40 vi ha però portato anche a pensare a dei prodotti in maniera più giovane, in maniera più semplice, più adatti al mondo attuale. Noi comunque siamo attaccati alla tradizione, alla tradizione del meccanismo a cam e questo ci consente con le nostre radici profonde di riuscire ad individuare quali sono i componenti chiave e la parte fondante di un meccanismo e di un sistema di movimentazione a cam. Nel seguire il cliente anche nella ricerca di un prodotto più competitivo abbiamo fatto questa ricerca e il nuovo VTC che presentiamo in BIMU per la prima volta è un po' la rappresentazione di questo.